Si è svolto presso lo stadio Torre di Agropoli il primo Memorial Gladino Roiorio, un triangolare di calcio giovanile al quale hanno partecipato le squadre di Agropoli Santa Maria di Castellabate e Pestum. L'iniziativa è perché oggi è il compleanno di papà, oggi è l'8 di settembre, è il suo compleanno e con mio fratello e mia sorella abbiamo pensato di mettere un punto ad un primo Memorial in suo ricordo. Papà come tu sai e come tutti sanno era un grande uomo di sport, un grande uomo di calcio, una persona che ci teneva molto al settore giovanile, ai ragazzi, ai bambini e ha i nipoti che giocano nelle squadre di calcio per cui era un affezionato anche tifoso e quindi abbiamo voluto mettere il punto. Abbiamo fatto questo Memorial con tre squadre, con la Polisportiva Santa Maria che hanno dato anche una mano nell'organizzazione e per questo ringrazio il direttore generale Domenico Giannella e il tecnico Antonio Spinelli, poi la Ugent Agropoli e la Fox Pestum. Sono stati molto gentili e hanno partecipato. Per il futuro già state organizzando un Memorial molto più all'avanguardia? Allora sì, con mio fratello abbiamo pensato appunto di mettere il punto a questa data e quindi fare il primo Memorial tra virgolette un po' casalingo, insomma organizzato anche un po' di fretta perché vogliamo creare proprio un vero e proprio evento sportivo l'8 di settembre in maniera che insomma soprattutto sul settore giovanile in modo che questo possa diventare un appuntamento fisso. E prima di chiudere mi piacerebbe da parte tua ricordare il grande Ladinoro Iorio, un aneddoto da parte tua che ricordi più spesso, lui era insomma solerte a fare delle battute, uomo molto saggio quindi dici tutto. Allora sì, io ricordo sempre, lo dico sempre, un aneddoto perché indicavano dei giocatori, mentre lui vedeva una partita, indicavano dei giocatori sul campo, quello è bravo, quello gioca bene, e poi gli chiesero di Ciclarino tu che pensi? E lui disse in maniera molto semplice, uo pallone si oca gucci il vil, perché lui pensa che insomma il fattore testa, il fattore impegno, il fattore mentalità era un fattore importante, insomma e quindi questa aneddoto dice, uo pallone si oca gucci il vil. Per chiudere, nessun premio alle squadre partecipanti di oggi, ma un meritato premio fair play a un giocatore, come segno diciamo di stare bene nello sport e insomma lavorare col cervello e quindi non con i piedi? Allora sì, noi faremo una targa ricordo alle squadre che hanno partecipato e poi abbiamo deciso di non fare nessun premio classifica, ma dare soltanto un premio al miglior giocatore, premio fair play, quindi al giocatore più corretto, perché tra virgolette papà ci teneva molto alla correttezza in campo, alla serietà in campo e quindi abbiamo deciso di fare solo questa premialità. Il gradirore è stato allenatore dell'Agropoli, allenatore di varie squadre delle nostre zone e anche un ottimo calciatore, non solo allenato il settore giovanile come il vostro, sia dell'Agropoli sia della Jugend, sia di altre squadre. Spesso è venuto a fare anche tornei a livello internazionale, noi siamo stati con lui in Francia, in Belgio, in Germania, un'abitudine che purtroppo, devo dire purtroppo, per le nostre squadre giovanili si è perso e sarebbe il caso di ricominciarle.